Una mamma, una signora, un'operaia che aveva partecipato a delle manifestazioni di sciopero che queste manifestazioni di sciopero erano considerate antiregime ed è stata denunciata ai tedeschi da degli italiani che aveva fatto uno sciopero. L'altra sua compagna di sciopero è stata avvisata, si è nascosta e ce l'ha fatta scampare. Adesso è morta e è diventata anziana. La cosa importante è di capire che nei momenti difficili di non essere dei delatori. Grazie. 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 Grazie.